eccoci qua con matteo restivo allora podio oro in casa si si dai questo è un periodo in cui di solito il mio gruppo non gareggia al meeting di milano non saremmo andati se fosse rimasto la chiaramente essendo più davanti al pubblico di casa davanti alle famiglie dei ragazzi che si allenano qua con noi diciamo che c'era un connotato emotivo più alto il tempo insomma è relativo al periodo molto distante da quello che spero di fare fra un mese agli assoluti però sono contento dai sempre bello gareggiare gareggiare in casa visto che non capita spesso certo e senti parlando invece di questa modifica al regolamento si io in realtà ho provato sto già provando qualcosa dobbiamo ancora capire se è una cosa efficace o se è una perdita di tempo penso che comunque non ci sarà nessuno a riccione che proverà a fare questa cosa di emergency arrivare a braccia unite però chissà magari sulla seconda parte di stagione si inizierà avere qualche riferimento in gara in gare chiaramente minori e vedremo se funziona o no chissà staremo a vedere quindi ci vediamo a riccione si si assolutamente dai ci vediamo grazie matteo ciao ciao